Vittoria doveva essere, vittoria è stata, ma forse troppa fatica si è fatta per artigliare la qualificazione al terzo turno da parte dei Neroverdi. Perché l'avversario, il Brindisi, ha dato l'avvio alla propria stagione solo qualche giorno fa ed era imbottito di Junioras. E' perché si aspettavano delle risposte da questo match, tecniche e tattiche, dopo il pari amletico di domenica scorsa. Mister De Luca rivoluziona l'undici, manderendo però il 433, presentando fra i pali il portiere Scuola Juve e Lonoce, rispolverando Danilo Colella dietro accanto al palladio Lanzolla, esterni bassi Colace e Canutè, in cabina di regia il famelico Dancora e il rubesto Manzo, il genio di Taurino e l'estro di Montinaro alle spalle di un troppo falso Nueve d'Anna. Chianese fa quel che può con i suoi ragazzini ardimentosi e sceglie la coppia Spinelli-Alfano a protezione del gattesco Cervellara, sterpone direttore d'orchestra in mediana e in avanti il tridente Badie-Serafino-Garofalo. Minuto 6, la prima di una discreta messe di occasioni per i padroni di casa. Montinaro imbecca in area all'undici che calcia, ma l'estremo Brindisino guizza e respinge. Cinque primi dopo, corner maligno e arcuato del trequartista ispirato, smanaccia Cervellara. Al quarto d'ora rovesciata flebile di Danna. Subito dopo il ventesimo, triplo opportunità per i Leoncelli con Dancora e Danna, ma la legnata del primo e la ribattuta del secondo vengono murati dal goalkeeper ospite. Sul corner seguente, incornata di Colella, che rotola fuori ad un sospiro dal palo. Insomma, il solito dominio infecondo dei padroni di casa. Ci si attende maggior pragmatismo al rientro dagli spogliatoi. E al settimo si vede finalmente la compagine biancazzurra, con saetta di Garofalo, suppiazzato dal limite, tuffo di Dascalico di Lonoce a salvare. Bolide del fantasista tascabile al minuto ventotto, alta. A undici dallo scadere, il tanto sospirato gol decisivo. Biassone illumina, Lattanzio ci mette il piedone, il difensore adriatico Alfano trafigge proditorio il suo pureroico portierino, che a pugni uniti, al novantesimo, sventa una punizione tosta di Turu. Dunque, un successo ampiamente meritato, che va celebrato con un brindisi. Infatti, domenica prossima, per la seconda di campionato, si va al Fanuzzi a sfidare ancora una volta i rivali odierni.